Se è una creatura di Dio, hai uno scopo e nessuno potrà mai portartelo via. Molti pagherebbero bene per trovare qualcuno che li calmasse un po'. Siate sottomessi ai vostri padroni, non solo a quelli buoni. Cantate al Signore un canto nuovo. Le lodi di Dio siano sulla bocca dei fedeli e la spada due tagli nelle loro mani per compiere la vendetta fra le nazioni malvage e punire duramente quei popoli per mettere in cadena i loro sovrani. The Birth of a Nation, il risveglio di un popolo. Prima TV Canale 5, mercoledì in prima serata.